3 milioni di casi Covid e 20.000 morti nei Paesi Bassi torna all'incubo del lockdown per controllare la diffusione della variante Omicron. Lo ha annunciato il primo ministro Mark Rutte. Una rigida serrata con negozi non essenziali, bar, ristoranti e altri luoghi pubblici chiusi. Anche le scuole saranno chiuse da lunedì e l'isolamento durerà almeno fino al 14 gennaio. Le restrizioni, ha detto, sono inevitabili. Si tratta delle regole più severe annunciate finora su Omicron. A Londra il sindaco Khan esorta i cittadini alla responsabilità. Siamo incredibilmente preoccupati per l'enorme impennata della variante Omicron. I ricoveri ospedalieri stanno aumentando, ma anche le assenze del personale stanno salendo a livelli enormi. Quindi ho preso la decisione di denunciare la grande crisi. Intanto centinaia di persone si sono riversate nelle stazioni per anticipare le partenze, temendo una nuova stretta. Protesta viene contro l'obbligo vaccinale e l'isolamento di chi non lo rispetta. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riferito sabato che la variante Omicron è stata rilevata in 89 paesi. Grazie a tutti.